Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa la giornata a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire. Un messaggio alle amiche, Giulia aveva confessato il suo disagio nei confronti di Filippo e le sue paure per i comportamenti del ragazzo. Io vorrei non vederlo più perché comincia a non sopportarlo più, mi pesa. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo. La domanda è, abbiamo fatto tutto per salvare questa ragazza? Noi questa domanda ce la dobbiamo fare. Buongiorno e ben ritrovati con Storia Italiana. Filippo Turetta tornerà in Italia sabato, domani, insieme a Carlotta Ricci, collegata con noi. Buongiorno, adesso racconteremo quelli che sono, ciao Carlotta, gli ultimi aggiornamenti. Ovviamente se ne stanno occupando tutti i giornali di questo rientro, rientro su un volo militare. Domani a Venezia. Carlotta a te. Sì, esatto, è proprio così. L'aereo partirà da Roma alle 8, sarà a Francoforte alle 10, dove Filippo Turetta sarà stato condotto dal carcere di Alle. Poi alle 10.45 l'aereo ripartirà da Francoforte ed è atteso all'aeroporto Marco Polo di Venezia alle 12.30. Sarà sempre accompagnato dagli uomini del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Una volta che sarà arrivato qui in Italia, sarà portato nel posto di Polizia di Frontiera e lì gli verrà notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. A quel punto sarà preso in consegna dai carabinieri, verrà condotto in carcere, presumibilmente al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Lì potrà incontrare l'avvocato, si ipotizza che possa essere formalizzata la richiesta di perizia psichiatrica perché è un'ipotesi che era stata fatta in questi giorni. L'avvocato, l'altro avvocato, perché ieri è cambiato, l'avvocato di Filippo Turetta, aveva parlato di un approfondimento per capire cosa è successo realmente e non per sollevarlo dalle sue responsabilità. Questo è quello che, al momento sappiamo, accadrà domani. Ovviamente poi Filippo sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'interrogatorio di garanzia che potrebbe avvenire già lunedì. Carlotta, ci sono tantissime polemiche, adesso ne vedremo alcune, per quanto riguarda la telefonata al 112. Abbiamo letto smentite, anche da parte dei carabinieri. Ci aiuti a capire che cosa è successo? Ci sono molti nodi, molti punti oscuri, se vogliamo chiamarli così. Noi abbiamo scelto questa posizione perché è indicativa di che cosa è accaduto in prima battuta quella sera. Qui si intravedono i palloncini che sono messi. C'è la casa di Giulia Cecchettin, la casa della famiglia. Qui, da questo lato, ci sono i condomini, ed è da uno di questi balconi che alle 23 e 18 della notte, tra sabato 11 e domenica 12, arriva una telefonata. È un abitante di una di queste case, un residente, che sta sul balcone e sta fumando una sigaretta. Chiama i carabinieri e avverte di aver assistito a una lite tra due persone. Una lite molto violenta perché lui ha sentito anche delle urla, così mi fai male, delle richieste di aiuto. Poi avrebbe visto una figura più alta. Calciare, è molto cruda la descrizione, ma questo è quanto è scritto anche nella ordinanza di custodiae cautelare, dare calci a una figura più piccola a terra. E qui abbiamo percorso già quasi tutto il percorso, appunto per arrivare al punto, al parcheggio, dove solo il giorno dopo sono state trovate macchie di sangue, un coltello e una impronta. Perché quella telefonata poi non avrebbe avuto seguito. I carabinieri hanno detto che c'erano due pattuglie impegnate su altri due interventi, non sono venuti qua subito, fondamentalmente. E poi c'è il nodo della denuncia di scomparsa fatta il giorno dopo. Alle 13.30 di domenica il papà di Giulia, Gino, si presenta dai carabinieri per denunciare la scomparsa della figlia, dopo aver sentito anche i genitori di Filippo Turetta. A quel punto sulla denuncia viene scritto che si tratta di un allontanamento volontario e che la ragazza non è in pericolo di vita. Nonostante sembra che Gino avesse comunicato le sue preoccupazioni ai carabinieri. Ci stiamo nel frattempo avvicinando al punto esatto. Eccolo qui, ci sono ancora, si intravedono le macchie a terra. Insomma, c'è da chiarire veramente molti punti. I carabinieri dicono anche che in realtà durante la telefonata quella sera la persona che avrebbe assistito all'aggressione non sarebbe stata in grado di fornire né un numero di targa né un modello di auto precisa e quindi sarebbe stato impossibile andare alla ricerca o all'inseguimento di chi che sia e quindi in quel momento l'intervento non è stato fatto. Il tutto è stato ricollegato solo il giorno successivo dopo la presentazione della denuncia. oltre al fatto che questa persona che ha assistito all'aggressione è andata personalmente dopo aver visto il tam tam sui social a casa dei cecchettin per avvisare di quanto è accaduto. E solo grazie a questo il tutto è stato ricollegato. Questo è come sono andati i fatti. L'arma dei carabinieri sta facendo degli accertamenti interni per verificare il rispetto delle procedure ovviamente. E anche perché quella telefonata, Carlotta, dovrebbe essere agli atti adesso, no? Allora sì, è stata acquisita dalla procura ma è stato fatto già dal giorno successivo, già dalla domenica, cioè nel momento in cui tutti questi eventi sono stati collegati insieme la procura ha acquisito la telefonata. Poi c'è il nodo della seconda telefonata, ovvero ieri a un certo punto è circolata la notizia e ci fosse un secondo testimone, questa volta però della seconda aggressione avvenuta affosso a quattro chilometri da qua dove è stato girato il video della aggressione che è agli atti della procura ovviamente si vociferava di un secondo testimone che avrebbe visto questa aggressione che avrebbe chiamato solo dopo qualche minuto i carabinieri e si ipotizzava addirittura un fascicolo per omissione di soccorso. Tutto questo è stato smentito, i carabinieri hanno detto che è arrivata solo la telefonata da questo edificio alle 23.18 di sabato notte, questo al momento è quello che sappiamo. Sarno, lei che si occupa spesso di difendere le donne quando chiedono aiuto e poi invece le denunce spesso, purtroppo lo dico, vengono sottovalutate. Purtroppo diciamo noi viviamo in un sistema paese in cui dobbiamo anche comprendere una cosa per dare una corretta informazione, non possiamo immaginare che ci sia una pattuglia dei carabinieri per ogni cittadino e dobbiamo immaginare che molto spesso non c'è un'adeguata educazione civica perché tante volte c'è un procurato allarme rispetto a situazioni che non sono così gravi. La cosa che però mi crea un forte dissenso. Questo però lo dovremmo capire rispetto alla telefonata che è stata fatta perché queste sono le voci che noi sentiamo, poi dobbiamo vedere i fatti. Infatti è questo che volevo dire, ma la cosa che mi crea però un profondo rammarico, lo devo dire, ma una persona che assiste, anche un testimone, immagino me stesso che sono alla finestra di casa mia, sento una ragazza urlare, la vedo picchiata per strada, io che cosa faccio? Io non mi limito solo a fare la denuncia, io scendo per strada, dobbiamo iniziare a dare forza alla nostra voce e a comprendere che la difesa non può essere sempre e non può appartenere sempre a tanti. Non è che possiamo difenderci da soli? Però dobbiamo assolutamente... Non è che i cittadini ci devono mettere... Eleonora, io sono d'accordo con te, però perdonami, sono d'accordissimo... No, su questo c'è polemica, non è che c'è una verità oggettiva. No, io ritengo una cosa, la cosa che abbiamo detto anche l'altra volta, se ricordo in trasmissione, a me sembra che in questo Paese ci sia sempre la ricerca di una responsabilità alternativa. Non perdiamo di vista il dato che qui c'è un unico responsabile che pare che abbia pianificato questo omicidio e quindi ce l'abbiamo. Però è troppo facile così, se sono stati chiamati gli aiuti e poi gli aiuti hanno sottovalutato... Quelli che dovevano aiutare hanno sottovalutato, non solo dobbiamo verificare, possiamo sceglierlo noi. Però alle volte assolutamente hai perfettamente ragione, vanno verificate queste cose, perché se non c'è stato un intervento immediato e ci poteva essere, è una cosa da approfondire. No, poteva essere salvata la vita. Poteva essere salvata la vita, è fuori discussione, è così, ma hai perfettamente ragione. Però quello che dico io alle volte, perché noi parliamo purtroppo sempre di avvenimenti che si sono già realizzati, ma dico io, viva Dio, pur nel rispetto, nella incapacità di ognuno di noi, ma se una persona, due persone, tre persone di un condominio scendono per strada e urlano contro quella persona, può darsi che c'è un intervento immediato, perché può darsi che pure le forze dell'ordine, se già era maturato quell'evento, sarebbero intervenute anche in 5 minuti, 10 minuti, e non avrebbero apportato un contributo. Cosa è per passi? Catena Fiorello, buongiorno, grazie di essere qui. Anna Vagli, che cosa ne pensa Maria Rita? Sai, Eleonora, cosa mi colpisce? Avete ragione tutti e due, perché nel caso della signora che è stata aggrida con l'acido dall'ex, quello è intervenuto e non si è fatto nemmeno riprendere dal punto di vista dell'intervista, forse per il timore poi di persecuzione, però è intervenuto. Però non sempre, credimi, uno può capire, magari sbaglia l'intervento, ha anche timore, perché di fronte a follie di questo genere, quindi noi dobbiamo contare sul collegamento tra ciò che siamo noi, società civile, e le forze dell'ordine. È chiaro che adesso sottovalutare un segnale di quel genere, ma magari non c'era la targa, magari hanno pensato, ma no, magari è una lite, ma comunque era importante intervenire. Come diceva prima Eleonora, sarebbe stata salvata una vita, ma lì è un concorso di... Non è il problema di trovare chi è il colpevole, perché il colpevole c'è dichiarato, è la concomitanza che deve cambiare. Allora Giulia voleva allontanarsi da Filippo, voleva che lui sparisse la sua vita, ma dall'altra parte invece ha provato di tutto per aiutarlo. Sentite. Aveva paura per Filippo e non per se stessa. In un audio inviato alle amiche 39 giorni prima di morire, prima di essere uccisa dal suo ex fidanzato, Giulia racchiude tutto lo smarrimento, il senso di colpa, misto alla sensazione di soffocamento provata. Poi Giulia avevamo deciso di comprare dei biglietti per vedere il nostro gruppo preferito. Dopo Filippo ha voluto aggiungersi a questa cosa, ha insistito che appunto era anche il suo gruppo preferito e che insomma veniva anche lui. Il pandino non si vede. Giulia aveva capito che quello di Filippo non era amore, ma un'ossessione. Pur di continuare a vederla, lui frequentava in facoltà i corsi dell'anno successivo seguiti da lei, sempre insieme anche al bar dell'università, dove lei entrava con il suo sorriso e lui rimaneva a distanza senza toglierle mai gli occhi di dosso. Quando dovevano trovarsi con il gruppo dell'università, penso Filippo le aveva detto vuoi che venga con te e le ha detto no, guarda preferisco stare da sola, fare le mie cose da sola e poi ci vediamo insieme con tutti gli altri amici. Per poi arrivare a Padova, scendere dall'autobus e ritrovarselo in fermata dell'autobus. Filippo minacciava gesti estremi. Lei forse non voleva, ma sarebbe stato un po' possessivo, magari controllava il telefono o quelle cose lì. Filippo diceva di amarla, eppure le ha tolto la vita. La notizia è questa, domani dovrebbe arrivare con un volo militare a Venezia, Filippo Turetta. E poi l'altra notizia, Catena, non so se tu hai seguito tutta questa vicenda, sono le polemiche che ci sono per un presunto mancato soccorso. Ecco, guarda, ieri nella civilissima piazza Balduina di Roma, quindi siamo proprio nel cuore, non riesco a passare, sono andata a fare la spesa, ho un problema incastrata tra le macchine con un furgone bianco dietro che mi suona di passare, quindi o pesto i pedoni oppure devi aspettare. E a un certo punto quando ti esaspera quello di io, tu che fai? Aspetta! Ok, è stata una frazione di secondi, è impazzito questo signore, quindi comincia ad accelerare, a farmi sentire che accelerava per quindi mettermi, e poi si affianca a me e apre lo sportello per farmi capire, mo te faccio, mo scendo. Ma io non potevo, perché mi sono impaurita, mi sono impaurita perché lo vedevo, era tipo proprio, sai, quando invasato... Alterato! Mi sono impaurito, non sapevo che fai. Che fai? Non lo sai cosa fai, perché sono secondi, no? Se non che lui si affianca e continua ad aprire lo sportello per farmi capire così. E poi ha inveito dicendo delle belle parole. Allora questo per dire cosa? Per dire che non, come diceva il dottor Sarno, non c'è una pattuglia ogni due secondi. Andiamo al problema principale, andiamo al problema che è sempre lo stesso, e cioè che il maschio, e con questo apriamola una grossa parentesi, non tutti i maschi del mondo, tutti questi, chiamiamoli deficienti, che pensano che quando ti prendono il parcheggio, perché tu dici ma che c'entra con l'omicidio? E c'entra molto, perché è proprio uno status mentale, cioè io faccio quello che voglio. Quando siamo soli e non ci vede nessuno, quando io posso, è quel problema del ti faccio vedere io. Che è una rabbia repressa, perché probabilmente, diciamo pure che ormai una categoria di uomini, questi ominicchi, si sentono, diciamo, braccati. Braccati da una donna che non ci sta più, perché è come quella che dice, senti, ora basta, sono secoli che diciamo ora basta. Ora basta, finiamola, perché non è sempre il problema che mi apri lo sportello e mi fai capire adesso scendo te e sistemo io. Perché questa è... È impotenza, Catena. È come dire, essere primitivi. No, ma è una sensazione di impotenza, di malessere, che deve diventare potenza. Cioè, in pratica, queste persone sono persone che si sentono assolutamente impotenti e dunque, in questo meccanismo per diventare potenti... E sottolineamolo che... Certo, non sono potenti. Nella totalità degli uomini che conosciamo, sono una minoranza, ma fanno danno. È un po', sai com'è? È come il fenomeno della mafia che macchia la Sicilia, l'immagine della Sicilia, che non è solo Sicilia, ma è il mondo. Ma si devono ribellare gli uomini. Non vi parlate sopra. E così è il maschio, è il maschio. Adesso, che non dobbiamo fare diventare nemmeno una guerra tra i maschi, no. Una categoria di deficienti che può fare dal minimo danno come ieri a me, che comunque ero chiusa in macchina, era giorno, c'erano persone intorno, sarebbe... magari scendeva, mi dava un pugno se avevo il finestrino aperto. A quello che uccide. Quindi dobbiamo sempre tornare all'ala dice. Allora, Filippo era assolutamente lucido in quello che stava facendo. Eh, bravo. Ma altrimenti è deficiente. Era assolutamente lucido, ha premeditato tutto. Addirittura gli hanno trovato un terzo coltello all'interno dell'automobile in Germania quando lo hanno arrestato. Filippo aveva deciso di non farsi curare, pur sapendo, tutti intorno a lui sapevano, non potevano non sapere di una certa determinata situazione, anche perché Giulia aveva provato Carlotta per tre volte, tre volte, a mandarlo in cura. Addirittura nell'ultima, lui credo fosse proprio standato a un paio di appuntamenti, poi invece si è dileguato. Per cui qualcuno lì sapeva, non è che si può dire che i segnali non ci fossero stati. Su, via, ecco. Non vorrei veramente banalizzarla così la cosa. I segnali c'erano e come, se c'erano. E soprattutto Giulia ha provato a fare di tutto. Non riusciva più a liberarsi di questo ragazzo, che era veramente diventato ossessivo e possessivo. Carlotta, domani arriverà a Venezia. Sì, per ricollegarci a quanto stavi dicendo adesso, Leonora, in realtà la cosa che colpisce di più è stato, forse, ovviamente qui non si incolpa nessuno, però forse questi segnali sono stati un po' sottovalutati, tanto che Giulia, come emerge anche dagli audio che mandava alle amiche, era preoccupata per l'incolumità di Filippo e non per la sua di incolumità. Cioè, lei dice alle amiche, io vorrei che sparisse dalla mia vita, ma non so come fare, perché poi lui mi dice che passa le giornate a guardare il soffitto, che minaccia di uccidersi, che minaccia... E lo stesso papà Gino, quando si presenta dai carabinieri, esprime le sue preoccupazioni per la sorte della figlia, per il fatto che la figlia alla notte non è rientrata a casa, dice che, insomma, Giulia è preoccupata per Filippo, che appunto minaccia di fare del male a se stesso, se lei decide di allontanarsi da lui, appunto. Comunque, domani, proprio tra l'altro in coincidenza con la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, rientrerà appunto Filippo Turetta. Insomma, saranno veramente tanti i nodi da sciogliere e ci si augura... Filippo Turetta, nel momento in cui è stato trovato dalla polizia tedesca, avrebbe detto in inglese I killed my girlfriend, ho ucciso la mia fidanzata. Questa è una frase che non potrà essere utilizzata in sede processuale perché non era presente l'avvocato. Ci si augura che possa raccontare tutto, tutto quello che è accaduto, anche prima di incontrare Giulia. Perché c'è un'altra questione che è emersa ieri. L'auto di Filippo Turetta, la sera di sabato, è stata registrata, la presenza di quest'auto, nella zona di Fossò, dove è avvenuta quella seconda brutale aggressione. Dal video si vede Giulia che riesce a scappare dalla macchina, lui che la insegue, lei che cade a terra, batte la testa. In coincidenza di quel punto c'è ancora l'impronta di una grossa macchia di sangue e poi la ragazza che viene caricata esanime sull'auto. Ebbene, la presenza dell'auto di Filippo sarebbe stata registrata dalle telecamere anche prima, cioè nel pomeriggio, alle 17 e 11 esattamente. Quindi si sta ipotizzando che lui possa aver fatto una qualche forma di sopralluogo, chissà, forse, per trovare un posto dove nascondere eventualmente il corpo, sempre ovviamente che la premeditazione venga poi dimostrata. Fatto sta che è stato un tragitto molto strano quello fatto da Filippo Turetta per arrivare poi qui, intorno alle 17 e 30, 18, quando si è visto con Giulia, sono andati poi a cena a Marghera, al fast food del centro commerciale Nave De Vero, che è l'ultimo punto dove i due sono stati visti insieme. Entro le 48 ore, successivi al suo rientro in Italia, Filippo Turetta dovrà essere interrogato dai magistrati. Vediamo quali saranno le tappe di questa vicenda in questo servizio. Mentre in un paese intero, a due settimane dalla scomparsa di Giulia e ad una dal ritrovamento del suo corpo senza vita, lo sgomento non cessa di far rumore, quelle che verranno per Filippo saranno ore decisive in cui il flusso di fatti e notizie continuerà ad accavallarsi. Domani, 25 novembre, nel giorno dedicato alla lotta alla violenza contro le donne, Turetta arriverà in Italia, a Venezia. Un volo dell'aeronautica partirà alle 8 da Roma per arrivare alle 10 a Francoforte, ripartire alle 10.45 dalla Germania, con a bordo Filippo, che sarà riconsegnato alle autorità italiane. Gli verrà poi notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Venezia e dentro le successive 48 ore verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia davanti ai magistrati italiani in presenza del suo difensore. Successivamente verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Giulia, uccisa, secondo le prime risultanze del medico legale, da almeno 27 colpi di arma da taglio. Dopo l'esame autoptico, la procura di Venezia potrebbe decidere di contestare a Turetta l'aggravante della crudeltà. Giulia sarebbe morta dopo una lunga agonia. I rilievi dei RIS sull'automobile di Filippo chiariranno la dinamica del delitto. Potrebbe essergli contestata anche la premeditazione. Il suo nuovo legale, Giovanni Caruso, potrebbe decidere di richiedere per il suo assistito una perizia psichiatrica. Si avvicina intanto anche il momento dell'ultimo addio a Giulia, quello dei familiari, degli amici, di chi in questi giorni si è immedesimato nel suo dramma. I funerali saranno celebrati nella Basilica di Santa Giustina a Padova da Monsignor Cipolla. Poi il corteo funebre proseguirà per Saonara, comune d'origine della mamma di Giulia. C'è un messaggio sui social verso l'avvocato Sarno. Che cosa dice il tuo ospite? Il cittadino alle 23 di notte ha fatto il proprio dovere e ha chiamato il 112. Adesso a colpa il bravo cittadino testimone? Si verifiche perché il 112 non è intervenuto dopo una chiamata accorata, denunciante, percosse e urla di donna. L'arma dovrebbe chiarire. Sì, io ritengo che sia corretta, sia perfettamente aderente a quello che è accaduto. Però il segnale che io vorrei lanciare è duplice. una nuova educazione civica e attenzione rispetto a certe cose. E, signori miei, stiamo attenti, quando parliamo, ad avere una grande fiducia e rispetto nelle istituzioni. Perché nel momento in cui noi possiamo dare un messaggio che viene colto come quasi di disinteresse rispetto alle denunce, abbiamo un effetto devastante. Io non riprendo il cittadino perché non è sceso. Io sarei sceso. E ognuno risponde con la sua coscienza. Ma questo non significa... Chiudo il concetto. Questo non significa che è una responsabilità del cittadino. Ci mancherebbe altro. Però, prima di dire che le forze dell'ordine non sono state adeguatamente, diciamo, pronte all'intervento, verifichiamolo. Perché sono quelli che ci assicurano la sicurezza. È un riscontro oggettivo che chi ha chiamato era distante da non poter vedere. Ma le urla erano talmente forti che le ha percepite. Il punto è questo. C'è il senso civico. Dico, ma io chiamo l'arma. Viene raccontato che ci sono urla strazianti e forti. Non si fa un giro di perlustrazione. Penso che sia la base. Poi ci saranno tutti gli accertamenti del caso. L'arma chiarirà. Però, secondo me, la colpa non è nel cittadino che addirittura, poi ha dichiarato, ho letto le ultime dichiarazioni, che non riesce più a dormire. Lui il suo dovere l'ha fatto. E come giustamente, per una diceva Eleonora, noi non ci possiamo sostituire allo Stato. perché altrimenti ci facciamo giustizia soli. No, sostituire no. Però è un istinto che ti viene di scappare per strada, di urlare, di fare qualcosa. Attenzione, perché se poi una persona è armata, e il cittadino scende da casa, non armato e non strutturato, per poter affrontare qualcuno invece che sta aggredendo qualcun altro, attenzione, questi discorsi bisogna fare un po' di attenzione. Facciamo fare all'arma, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, il loro lavoro. Abbiamo fiducia nel loro lavoro, però non possiamo oggi, su questo caso specifico, non sugli altri, su questo caso specifico, non chiederci se quella telefonata è stata sottovalutata o no. Carlotta. Poi voglio dire una cosa, Eleonora. Scusami. È quello che ci stiamo chiedendo un po' a tutti. Onestamente. In realtà i carabinieri hanno risposto in questo modo. Tra l'altro, vediamo se riusciamo in qualche modo a farvi vedere la stazione dei carabinieri, perché qui è un posto abbastanza piccolo. Dietro questa, vedete questo campanile della chiesa, dietro si trova la stazione dei carabinieri, quindi anche in questi giorni, quando abbiamo visto i familiari di Giulia uscire per recarsi dai carabinieri, per collaborare alle indagini, ci arrivavano a piedi, sono veramente due minuti. Questa stazione dei carabinieri sembra che la notte sia chiusa, quindi la telefonata, partita da qua, arrivata al 112, sarebbe stata dirottata su Chioggia. Hanno chiarito i carabinieri che in quel momento c'erano due pattuglie in zona, o meglio, lontani da questa zona. Una era impegnata, perché era stata chiamata, perché era scoppiata una rissa in un bar, e l'altra era stata chiamata, perché era scoppiata una lite a seguito di un incidente. Il secondo elemento che sottolineano i carabinieri è che il testimone non è riuscito a fornire un numero di targa, e che aveva già riferito che l'auto era andata via. Quindi sarebbe stato veramente complicato cercare qualunque cosa. Dopo poco più di dieci minuti quest'auto, perché è stata ripresa dalle telecamere, era già a Fossò. Ora, quello che ci si dice è che un eventuale intervento dei carabinieri forse non avrebbe salvato la vita a Giulia. Ma magari coordinato... Perché Giulia, lo sappiamo... ...coordinato nella centrale, no? Quando c'è un allarme, nelle varie stazioni ci si coordina. Ecco, in questo senso, perché è vero che una macchina poi si sposta, però se più stazioni di carabinieri, no? In quel momento in cui viene richiesto... Ripeto, siamo davanti a quello che probabilmente era un allarme grave. Cioè, non era una semplice aggressione. C'era una donna che stava urlando. Queste sono le indiscrezioni. Ripeto, poi bisognerà capire veramente che cosa c'è di vero o no su quello che leggiamo dai giornali, per carità. Però... No, in realtà, il fatto che la... Dimmi, dimmi. Il fatto che la segnalazione fosse di questo tipo, cioè che il testimone ha sentito le urla e che ha visto questa persona picchiare... Esatto. No, addirittura c'era questa persona in piedi che picchiava questa persona a terra è scritto nell'ordinanza di custodia cautelare dove è ricostruito passo per passo tutto quello che è accaduto quella notte. E un'altra cosa che noi notavamo era che non c'era traccia dell'intervento dei carabinieri. Ecco perché poi è stata chiesta conferma se l'auto fosse arrivata qui. Quindi stabilire se Giulia si poteva salvare è impossibile, lasciamelo dire. Probabilmente sarebbe stato più facile trovare subito Filippo, questo sì. E non attendere otto giorni, una settimana per ritrovarlo, esatto. Questo sicuramente. Anna? È grave perché ha aggiunto un passaggio in più nell'ordinanza di custodia ci ha scritto che vedeva una persona aggredita a terra. Quindi di fronte a questo, in un contesto, in un momento storico così difficile, domani è il 25 di novembre e sappiamo che ormai è un'escalation che non si ferma più, in un momento storico così difficile, com'è possibile che venga sottovalutata una richiesta di aiuto di questo tipo? E non è questione di fare del giustizialismo. Qui bisogna prendere coscienza e prendere atto del momento che stiamo attraversando perché altrimenti continueremo a parlarne, continueremo a contare le morte, ma niente verrà fatto per arrestare questo fiume di sangue. Una media di 10 al mese per un totale di 106 e non solo, ma continua il meccanismo perché fa l'effetto scea, scusate mi permetto di dire una cosa, che slatentizza un atteggiamento di violenza. Cioè un atto, guarda, quella dell'acido è stata incredibile, lì c'è stato l'intervento della persona che ha fermato la cosa, ma il signore in questione non si doveva avvicinare, era stato pluridenunciato, allora il braccialetto non funziona, lo si può rompere, il braccialetto di avvicinamento che si deve dare alle vittime non viene dato. Beh, allora, o un impegno è serio veramente, noi comprendiamo la gravità, poi le ragioni di questi comportamenti non sono degli uomini, sono di certi uomini, di narcisismo maligno, potere eccetera, per cui la guerra, la distruttività e il controllo sono problematiche patologiche, punto. Quindi, detto fra noi, c'è una distinzione da fare. Solo patologiche? Attenzione, attenzione, non pensare che... Però... No, mi aiuti, perché... Sul patologico... Sono culturalmente... La prego, perché sennò già iniziano a parlare di perizie psichiatriche, io sul patologico mi vengono proprio i brividi, guardi, mi sale... Chiariamolo però... Ecco, allora, chiariamolo, la prego, perché secondo me c'è una sottocultura, una matrice culturale, perché se la buttiamo sul patologico, professoressa Parsi, allora facciamo passare tutte le perizie psichiatriche. Io dialogo con lei, mi confronto con lei, professoressa, però comprenda anche me. Io dopo i fatti di cronaca che raccontiamo, poi seguiamo i processi, va bene? E durante i processi gli avvocati della difesa, per carità, fanno il loro lavoro, però ogni volta li fanno passare uomini violenti per incapaci di intendere, di volere. E io non ne posso più di sentire questo. Io non solo lo penso come te, ma lo penso peggio. Il discorso è questo. Comunque, in ogni caso, al di là della perizia psichiatrica, tu, perizia psichiatrica o no, follia o meno, gli sconti uguali quegli anni. sono un ergastolo, sono benissimo, all'interno del carcere ti curerai. Vedrai che quando la pena è la stessa e non passa la perizia psichiatrica, ebbè, la perizia, perché no? La perizia psichiatrica e vedi di chi si tratta, certo, di una persona sana di mente, Benissimo, ma la pena non cambia. A me non importa se tu sei una persona malata, eccetera. Vorrei dire che ti curerai il carcere. Scusi, mi faccia capire una cosa, lei pensa che tutti gli uomini violenti siano malati in mente? Io penso che tutti gli uomini violenti, bisogna vedere i livelli di violenza, siano persone non solo diseducate, ma che ci hanno un odio. Io non sono d'accordo su questo. Io invece penso che 40 contattati sono troppo parsi. Andiamo d'accordo su tante cose, ma su questa cosa io non mi ci trovo. Posso poi dire una cosa giuridica? Mi fai parlare, perché altrimenti, dato che la brevità del tempo, uno deve sintetizzare e non può... Allora, la maleducazione sostanziale per la quale è di cultura che le donne sono sottomesse, non possono... è stata un working in progress, ma la radice non è soltanto il patriarcato, l'incultura, eccetera. La radice è anche una rabbia, un odio che nasce all'inter... Quando una persona cresce diventa un uomo di un certo tipo, dietro ha storie familiari, storie dell'ambiente e non possiamo sottovalutare. No, non la mettiamo così, guardi, professoressa, mi scusi, io purtroppo... Guardi, glielo dico con tutto l'affetto per lei, la stima del mondo. Purtroppo non è così. Guardate che una cosa del genere è di una pericolosità unica, lo dissi già l'altra volta parlando con un altro professore, uno psichiatra, cioè vedete, far passare l'idea che ci sia sempre un problema di natura psicologica o patologica, determina le condizioni, perdonatemi, per una via di fuga straordinaria, la dobbiamo smettere nel nostro paese. Questa è una persona perfettamente normale, adusa, ad una violenza che si porta dentro semplicemente per una mancata accettazione. Lo voglio dire io da uomo, perché da uomo non mi riconosco in certi comportamenti, non mi piace questa forma, però fatemi finire questo concetto, non mi piace questa forma di proposizione di un modello che non ci appartiene. Gli uomini non sono così, gli uomini veri. Ora, queste persone sono persone violente che scaricano una violenza sulle donne in maniera gratuita, in maniera premeditata, semplicemente perché c'è un dato, c'è la mancata accettazione della possibilità che una donna ti dica no, non ti voglio, non voglio stare con me. Mi perdoni, e siccome io sono padre di una ragazzina di 15 anni, non accetto che nel nostro paese si continui ad andare in questa direzione e lo voglio dire con forza e convemenza, essendo un uomo, perché questa non è una battaglia di genere, questa è una battaglia di tutti quanti che dobbiamo affrontare tutti insieme e fino a quando diremo che c'è un problema psichiatrico, che c'è un problema patologico, non avremo fatto un buon servizio. Questa è una persona di cui io da avvocato, io faccio il difensore, lo dico io da avvocato difensore, questa è una persona che merita di avere la contestazione della premeditazione, mi candido a fare il magistrato del pubblico ministero ed avere la pena adeguata, perché in questo momento mentre noi parliamo dobbiamo immaginare quella sofferenza che si porta dietro una famiglia che non ha nessuna responsabilità e che non vedrà mai più sua figlia semplicemente perché un ragazzo non accettava l'idea che quella ragazza potesse vivere indipendentemente da lui. Questa è la verità. Mi fate dire una frase intera. Professoressa, la stiamo facendo parlare, io per carità le sto dando tutto il tempo che vuole. No, in onora, figurati. Allora, la psicologia è scienza della comunicazione del comportamento e individua in certi comportamenti, in certe situazioni una radice ben specifica. Allora, noi non dobbiamo accettare l'idea che la malattia mentale venga usata come scusa per il crimine commesso. No, perché questo viene usato in maniera serpentina per giustizia. No, noi dobbiamo da una parte capire che certi segnali si colgono che poi diventeranno malessere, diventeranno persecuzioni, diventeranno violenza e vanno radicati in che cosa? Nelle due agenzie primarie. Anzitutto tu hai una famiglia e la storytelling di quella famiglia, la storia in generale, ti dice come quella creatura è stata allevata, che tipo di situazioni e non vuol dire... Non mi sembra che lo storytelling della famiglia di Filippo sia un particolare. Eleonora, Eleonora, io te le devo dire queste cose, scusa, applichiamo quello che dici alla pratico. Stavo dicendo appunto che non è un problema... Mi pare una famiglia normalissima. Non è un problema, non voglio poi interrompere, non è un problema di famiglie ricche, famiglie che sembrano tutte belle. No, io non sto dicendo... e si sviluppano certi tipi di difese psicologiche contro l'angoscia di morte e non pensate che è una cosa in più. Bisogna capire... Allora, un conto è la legge che certi crimini li condanni e li deve condannare pesantemente, un conto è il percorso che fa capire alla gente come ci si arriva e coglie i segnali. Se tu non dai questa educazione, i segnali non li cogli e quando ti trovi di fronte a un caso come questo, dici come è potuto accadere. Io ti posso garantire che se fosse stato... Probabilmente si poteva... Un'ultima cosa. Hai sentito la ragazza? Devo far parlare anche gli altri. Rapidissimo. Hai sentito cosa ha detto la ragazza? Io ho timore. Non riesco a dirglielo. Non riesco a comunicargli perché altrimenti diventa matto. Allora, tutta questa copertura di paura ha una radice, no? Allora, che cosa ne pensate di quanto sta dicendo la Parsia Navagli e poi volevo sentire Catena Fiorello? Io, Leonora, sono d'accordo con te perché in questo caso abbiamo a che fare con una persona lucida. Dobbiamo dire che il narcisismo patologico non è di per sé sufficiente a escludere la capacità di intendere e di volere. Quindi, attenzione. Ma perché tu chiedi che... No, no. Parliamo tutti. In questo contesto, però, passa un messaggio sbagliatissimo. Se tutte le volte passa il messaggio che io uccido una donna per un mio capriccio, perché sono cattiva e sono crudele, perché non accetto il rifiuto, che tanto poi... Ho 22 anni, quindi magari non mi danno l'ergastolo perché appunto sono giovane, e poi magari la relazione era finita e qui non lascia passare. Siccome fino ad oggi abbiamo lavorato con le perizie psichiatriche e i danni sono evidenti all'ordine del giorno, bisognerà cambiare qualcosa. La legge dice che la relazione era finita quindi forse non si prende l'ergastolo, rischia al massimo 30 anni. Cambiamo la legge perché non è questione di essere giustizialisti, non è questione di essere femministi, è questione di guardare i dati oggettivi, non stereotipi che magari perché ci sono né polemiche di altro tipo, è questione di guardare i bollettini e la violenza contro le donne che attenzione lo sappiamo quella fisica è solo la punta dell'iceberg è in aumento quindi vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad oggi per cercare di fermarla non ha funzionato quindi dobbiamo cambiare le cose. E soprattutto ricordarci perché anche alle donne adulte accade ma ricordare alle nostre figlie nipoti anche se noi non dobbiamo avere il decalogo per vivere perché questo tempo del decalogo deve finire che veramente ci siamo scocciate ma soprattutto intanto per tamponare nella speranza che cambi davvero qualcosa ricordiamo a queste ragazze amiche sorelle tutte che noi non li possiamo salvare se si vogliono ammazzare quindi se si vogliono ammazzare possiamo al massimo avvisare la famiglia come già peraltro aveva fatto dopodiché noi dobbiamo capire già da quel momento che non è vero che ci ama talmente tanto che si ucciderà pensa quanto mi ama lo sai perché dico questo perché io vado a presentare i miei libri nelle scuole e spesso mi capita le adolescenti e guarda in Sicilia si dice ma rizzono i canne cioè mi vengono i brividi io sento dei discorsi da parte delle ragazzine non di tutte ma buona parte sono orgogliose della gelosia del fidanzato sono fiere perché serpeggia questo mood nuovo tra gli adolescenti che è quello del possesso e si sentono fiere invece non devono fare questo quindi ricordiamoglielo che il cretino che ti dice che se vuole ammazzare tu gli dici vabbè Sarno però ecco quello che volevamo dire credo la Parsi volesse dire le stesse cose che diciamo noi ovviamente lei ha un punto di vista psichiatrico che io non ho però io vorrei oggi anche in questa trasmissione qui vicino a me c'è una sedia rossa è un simbolo che noi stiamo utilizzando nelle nostre trasmissioni della RAI oggi per ricordare tutte le donne che oggi non ci sono non possono rispondervi non possono difendersi perché sono stati uccisi ora evitiamo di dire che questi uomini sono dei matti cerchiamo di capire che questi uomini quando ammazzano ammazzano con l'idea di voler uccidere ovvio di voler uccidere la libertà della donna e di voler eliminare di fatto la donna la femminilità la libertà l'indipendenza l'autonomia della donna evitiamo di dire che questi uomini sono matti vi prego questo dico poi ci sono una percentuale di persone psichiatriche ce ne occuperemo fra pochissimo con il caso di Alice Scagni Alberto Alice Scagni ma sono una percentuale rispetto al grande numero di donne che vengono uccise oggi nel nostro paese all'interno di relazioni affettive all'interno di mura domestiche il percorso di Filippo guardate tutti gli spostamenti di Filippo Turetta tra sabato e domenica prima e dopo l'omicidio di Giulia centinaia di chilometri scanditi da orari una sequenza ricostruita dettagliatamente dagli inquirenti sabato 11 novembre alle 17.11 la grande punto nera di Filippo si dirige da Vigonovo verso Fosso i due ragazzi stanno andando a fare shopping alle 20.22 Filippo scrive un messaggio alla mamma per avvertirla che cena fuori e infatti viene registrato esattamente alle 21.02 il pagamento effettuato presso un fast food del centro commerciale di Marghera e Giulia ad offrire con il suo bancomat sono le 23.04 quando l'auto di Filippo arriva a Vigonovo stare accompagnando Giulia a casa ma accade qualcosa una lite violenta e alle 23.18 un uomo che sente delle grida il super testimone chiama il 112 Filippo mette in moto alle 23.29 la sua auto entra nella zona industriale di Fosso permane davanti alla fabbrica dove un video registra la seconda aggressione nei confronti di Giulia dalle 23.33 alle 23.39 per 6 minuti gli ultimi minuti di vita di Giulia per poi iniziare la fuga a direzione Dolo dove l'auto transita alle 23.52 domenica 12 novembre a mezzanotte e 43 il passaggio della vettura è segnalato a zero branco Villorba Spresiano l'auto continua a viaggiare e arriva a Maserada sul Piabe a 1.13 poi ancora in piena notte prosegue per Caneva a Polcenigo alle 2.39 passa per Aviano poi un buco di oltre 60 km le telecamere di Piancavallo sono in manutenzione e si riattivano solo 4 giorni dopo è in quella zona che Filippo decide di disfarsi del corpo di Giulia abbandonandolo sulle sponde di un canalone nei pressi del lago di Barchis poi riprende la folle corsa alle 7.22 passa per Forno di Zoldo alle 9.07 si ferma a fare benzina ospitale di Cortina d'Ampezzo pagando con delle banconote macchiate con il sangue di Giulia la fuga prosegue oltre confine domenica l'arrivo in Austria e poi alla volta della Germania dove una settimana dopo Filippo si ferma sulla A9 senza carburante a luci spente e viene arrestato dalla polizia tedesca allora fra poco partiremo da una telefonata di un altro una richiesta di soccorso al 112 che secondo la famiglia Scagni è stata sottovalutata ripeto non sono per noi accuse queste sono solo riflessioni sui casi specifici vorrei sottolinearlo perché noi non siamo qui contro qualcuno noi siamo qui per qualcuno per voi a vostro servizio questo ci interessa spiegare dunque fra poco partiremo con questa telefonata Barbara De Rossi su quanto detto in studio vuole intervenire ciao Barbara ciao cara allora tutti abbiamo seguito la storia è chiaro che sinceramente quando si parla di formazione delle istituzioni deve essere chiara e importante questo punto perché non lo dico io lo dice da tanti anni un giudice famosissimo che si chiama Fabio Roia e che dice che le formazioni la formazione di tutte le istituzioni della polizia dei magistrati dei servizi sociali di qualsiasi organo abbia a che fare con queste con questa tematica va formato partendo da questo presupposto e valutando che comunque negli anni tutto quello che mi è stato segnalato dalle donne che ho assistito dai casi che ho trattato in tanti anni c'è ci sono tanti elementi che portano poi all'omicidio di queste donne la sottovalutazione del rischio è comune cioè le donne muoiono per diversi fattori primo perché non denunciano spesso sottovalutano loro il rischio di non denunciare c'è la sottovalutazione del rischio da parte di magistrati che danno provvedimenti non adeguati c'è la lentezza delle burocrazie la non lavorazione delle denunce da me vengono donne e mi chiamano donne che dicono che spesso lo devo dire con grande rispetto per le forze dell'ordine ma mi è stato raccontato tante volte che ci sono persone che cercano di far fare pace a delle donne che vanno a denunciare e gli viene detto ma no via su ma non si preoccupi che magari si metta a posto cioè succedono anche queste cose qua allora o noi diamo una riaggiustata a tutto quanto e dobbiamo capire che purtroppo il male esiste in questo caso naturalmente andrà dovrà essere appurata la premeditazione ma è talmente chiaro ancora stiamo a parlare se c'è stata premeditazione o no per una persona che ha acquistato gli scotch in line ha preso sacchi neri aveva i coltelli e non parliamo del fatto che è stato detto che questa persona ha tentato di uccidersi ha vagato per delle ore ha cercato il kit di sopravvivenza per stare in giro chissà come e dove per scampare a questa cosa ora tolto il fatto che possono anche capitare dei casi in cui ci può ci può essere una una patologia di base ma non può essere non dobbiamo permettere che venga usata nei tribunali questo escamotage perché anche una persona che può essere malata deve pagare tutta la sua pena e deve stare in galera per 30 anni e per tutto ma non possiamo dire che sono tutti malati quelli che uccidono le donne Barbara è questo che sto cercando di dire e dai è appena uscita adesso l'avvocato che sta parlando di perizia psichiatrica su questo caso è questo che sto cercando di dire basta dire che sono matti basta hai ragione basta perché è un escamotage e ogni volta siamo con questa abbiamo visto anche lì nel caso della signora con la bambina che il primo interrogatorio che è stato fatto parlava in maniera normale poi arriviamo che sembrano persone che non hanno più una testa e cominciano a parlare insomma voglio dire è un escamotage troppo comodo troppo comodo io per mio carattere sarei scesa per strada Leonora te lo dico perché io non ho più pazienza anche rischiando in privato è anche giusto che le persone non rischino però se si può intervenire e fare un minimo la differenza che ognuno di noi la faccia perché siamo arrivati ad un punto per cui non se ne esce fuori allora diamo una registrata a tutto quanto e formiamo le persone le istituzioni non diamo più gli escamotage e controlliamo gli stalker perché lo stalking è sottovalutato quando una persona quando una persona comincia a limitare la libertà personale degli altri a minacciare e a rendere impossibile vanno bloccati subito con dei provvedimenti seri provvedimenti seri che li blocchino li fermino perché ci sono persone che se si mettono in testa di ammazzare qualcuno ed è successo perché io l'ho trattato in questi casi le ammazzano comunque e se non li fermi lo fanno prima o poi quindi non possiamo trattare lo stalking come una cosa che si vabbè si però se non c'è un fatto grave io poi alla fine come faccio a intervenire e come faccio a bloccare uno che mi manda 200 messaggi di morte e come faccio a intervenire con uno che si presenta sul posto di lavoro e mi rende la vita impossibile e lo dovete fermare lo dovete fermare devono cambiare le leggi qui non è se il codice rosso si funziona no in flagrazza di reato a destra e a sinistra però continuano a morire le donne e quando qualcuno si mette in testa di ammazzare qualcuno come lo fermi allora questi poi sono riflessioni che faremo anche nella seconda parte della nostra trasmissione perché ci sono donne e potremo parlare con loro direttamente che sono sotto minaccia vivono con la paura di essere uccise tutti i giorni e poi invece ci sarà una madre di una ragazza che non c'è più perché non è stata difesa per cui nella seconda parte di questa trasmissione di questa trasmissione